E' ufficiale Gilberto Petrucci, nuovo sindaco di Penne, quanta soddisfazione c'è? Tanta soddisfazione, il risultato è importante, è un risultato che mi dà la forza ora di lavorare con determinazione su questa comunità. Abbiamo tanti dossier aperti tra cui l'ospedale San Massimo e soprattutto il sostegno alla vertenza Brioni. Noi ci siamo, una grande squadra, un grande risultato e ora dobbiamo lavorare con determinazione. A proposito di questi temi, in quale direzione vorrà lavorare? Intanto bisogna mettere in campo tutti gli strumenti per il sostegno alla vertenza Brioni. Abbiamo chiesto l'istituzione nell'area Vestina di un'area di crisi complessa. Abbiamo buone chance da parte di Regione Abruzzo che ha già inserito il territorio comunale di Penne nella carta degli aiuti di Stato. Continueremo su questo percorso. Io sono fiducioso e Penne dovrà tornare ad essere la città leader dell'area Vestina. Per quanto concerne invece gli altri progetti in itinere? Intanto dobbiamo recuperare la vitalità del centro storico e poi andremo a mettere in campo tante risorse per la riqualificazione e il ripristino delle strade periferiche e di campagna. Io sono fiducioso, abbiamo una grande stagione dinanzi a noi, dobbiamo intercettare tutti i fondi del recovery plan e della nuova programmazione 21-27. Quindi per la mia squadra sarà un lavoro duro e soprattutto forte per la nostra realtà che ha bisogno di forte sostegno. La sua comunità si è espressa con un distacco di ben mille voti circa rispetto al secondo candidato Pizzi. Ecco, cosa vuole dire? La città mi ha dato sostegno, mi ha dato un mandato importante che io dovrò ora mantenere saldo in mano e quindi amministrare con decisione questa città. E io sono convinto che con la mia squadra porterò a casa risultati importanti. Per quanto concerne invece il rapporto con le altre forze di minoranza? Sarà fondamentale la coesione politica. Io sono convinto che sia la lista del candidato sindaco Pizzi che la lista del candidato Frise saranno un supporto importante alla mia azione di governo. Perché la città deve tornare unita e solo uniti possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Grazie. Grazie. Grazie.